Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo pack opening Buonanotte! Questo perché abbiamo i pacchetti, li ho ottenuti dal lunedì che sono usciti questi pacchetti gratis per il sesto anniversario di FIFA Ultimate Team per cui sono pacchetti interessanti perché molti di essi contengono tanti giocatori e essendo pacchetti free, quindi di giocatori non scambiabili più possibile, più probabile trovare ottimi giocatori io per dire in un altro account ho aperto un pacchetto così random ho trovato Benteke If settimana scorsa, più o meno lunedì o martedì non mi ricordo quindi raga, direi di partire subito con il primo pacchetto andiamo da quelli più brutti, cioè questo qui come sempre vi invito a lasciare un bel like così vediamo se siamo fortunati, abbiamo il primo pacchetto e qui tra l'altro riescono i più scarsi però noi abbiamo trovato, no nessuno, Chupomoting che merda, Correa, Chupomoting o Kazaki e vabbè, nuovo pacchetto, apriamo un altro di questi che tanto sono quelli più, diciamo, molto ignoranti speriamo di trovare qualcuno della squadra della settimana perché a parte che non so neanche chi c'è nella squadra della settimana abbiamo trovato Kazares, questo tizio qui con 4 stelle abilità però nelle statistiche un po' bruttine soprattutto in tiro e poi sostanzialmente nulla poi apriamo questo qui i giocatori più o meno, 12 giocatori tutti orari e questi 12 oggetti quindi facciamo questo qui c'ha gli oggetti quindi oggetti consumabili e calciogiocatori bene, troviamo un contratto che la cosa non è molto bella troviamo Caballero, Pentner e Marlos ragazzi, qui stiamo andando veramente male pensavo di trovare almeno qualche giocatore decente almeno nei pacchetti gratis vabbè, abbiamo ancora 3 pacchetti non disperiamo il pacchetto Omega ce lo teniamo per ultimo perché è quello più, penso, figo anche se ci sono comunque tanti consumabili andiamo con questo 12 giocatori 12 giocatori rari per cui speriamo che almeno qui troviamo qualcuno di decente anche l'IF più scarso del mondo no Müller Müller è l'unico allora Giardelle, Sacco, Müller questo De Kebab Bellara, Biclischi e Jonathan abbiamo trovato Bentner e Jonathan nello stesso pacco opening potrebbe essere un segno concentriamoci su questo pacchetto Oro Maxi quindi sono 24 oggetti, 20 oro i cui giocatori consumabili 7 rari speriamo che porti bene anche se ormai dubito abbiamo già aperto 4 pacchetti pensavo fossero 7 pacchetti compresa anche domeniche in realtà no me ne è andati solo 6 vabbè questo nuovo pacchetto troviamo Osogai Yosogai soprannominato e Allegri vediamo tra i giocatori qui troviamo 20 che ma per il resto direi che abbiamo fatto alquanto schifo però ora abbiamo l'ultimo pacchetto intanto conserviamo tutto vendiamo abbiamo l'ultimo pacchetto l'ultima possibilità di di non far schifo perché c'è voi immaginate come mi devo sentire io spendo soldi o crediti e trovo merda nei pacchetti nei pack gratis che non posso neanche vendere trovo peggio vabbè ok apriamo questo pacchetto miga lasciamo giù il joystick togliamo il caos secondo me è proprio sporta sfiga attaccato al joystick e troviamo Davis bello la lana destro wow 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 bella merda eh questa è praticamente la mia espressione quando ho scoperto che non ho trovato nulla in questi pacchetti veramente scandaloso cioè scandaloso almeno un if scarsissimo potevano farmelo trovare comunque raga eh così non tanto ormai lo sapevamo cioè questo gioco è così come sempre raga mi invito a lasciare un bel like eh a 300 mi piace uscire un nuovo video penso che sarà l'ultimo pack opening in vista dei tots perché comunque adesso aspetterò mi terrò non so se userò FIFA points o crediti per quando usciranno i tots ovvero comunque c'è tempo fatemi sapere voi nei commenti se in questi pack gratis avete trovato quantomeno qualcosa di più decente di me penso comunque di sì perché da quello che vedo nei commenti da quello che leggo nei commenti siete decisamente più fortunati di me vi invito a iscrivervi al mio canale pagina Facebook Twitter Instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video bella raga